buongiorno buongiorno a tutti benvenuti queste mindset io sono alberto grossi siamo all'ospedale maria luigia di monticelli termi in provincia di parma e tornate a trovarci e la ringrazio buongiorno dottoressa la dottoressa cristina mani buongiorno alberto buongiorno a tutti psicologa psicoterapeuta dell'equipe lives qui presso il pole ambulatorio di maria luigia dottoressa oggi il tema è direi bello e come dire colorato dico colorato perché al centro di questa nostra chiacchierata c'è un film che è uscito un paio d'anni fa credo no che che tutti noi abbiamo visto abbiamo abbiamo molto apprezzato il film è inside out è un film film di animazione chiaramente della pixar disney e questo film racconta la storia di una bambina la piccola riley che dal minnesota quindi da uno stato americano si trasferisce in un altro stato san francisco con la famiglia e qui avvengono tutti un po i suoi problemi e la storia che che appunto abbiamo abbiamo visto infatti questo film è per così dire ambientato nel cervello di questa bambina e in particolare ci sono questi questi cinque personaggi che che si impadroniscono della sua della sua mente che agiscono per conto suo ecco dicevo prima di questo di questo cambiamento possiamo dire intanto che tutti i cambiamenti adesso a prescindere un attimo dal film sono sempre fonte di cambiamenti di vita sono anche fonte di 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 turbamento talvolta anche di disagio come nel caso di riley ecco in questo caso vediamo che la bambina nonostante metta molta positività nell'affrontare questa nuova vita e questo cambiamento in realtà succede che il personaggio che si chiama tristezza ruba i comandi a gioia che è un altro personaggino del film e la fa piangere per la nostalgia di casa è così da sì allora hai mandato moltissime suggestioni alberto partendo da un pochino un passo indietro posso confermare che effettivamente i diversi cambiamenti che inevitabilmente nella vita dobbiamo affrontare parliamo di riley ma parliamo anche in questo caso dei genitori portano ad un inevitabile destabilizzazione interna e quindi richiedono una serie di modificazioni per favorire il nostro adattamento a appunto nuove situazioni nuove circostanze nuovi ambienti e nuove relazioni e quello che noi vediamo è proprio una bambina alle prese con un grande cambiamento tra l'altro in un'età abbastanza critica che quella della preadolescenza che di per sé è un contesto sì infatti è una dodicenne è una dodicenne poi lo si vede molto bene in un certo momento del film in cui appunto emergono questi vissuti tipici dell'età e anche in modo abbastanza buffo devo dire facendo appunto mente locale su come si muovono le emozioni all'interno della bambina è evidente che inizialmente emerge gioia anche forse in modo un po fastidioso con questa voglia di voler vedere tutto il positivo che c'è addirittura cercando di gestire tristezza è molto divertente il momento in cui cerca di disegnare un cerchio a terra e di costringere tristezza nello stare lì e nel non uscire dal confine per evitare che di fare danni per fare guai ecco ecco volevo ricordare un attimo i nomi delle cinque emozioni perché sono molto divertenti anche gioia, tristezza, paura, disgusto e rabbia che tra l'altro sono molto ben raccontate anche rispetto ai pensieri che si connettono ad ognuna di queste emozioni mi viene in mente per esempio paura che proprio all'inizio del film dice per oggi va tutto bene siamo ancora vivi oppure è molto divertente anche la visione della stessa situazione dalle diverse punti di vista delle diverse emozioni per esempio stare sotto la pioggia visto da gioia è un'emozione bellissima saltare tra le pozzanghere mentre visto da tristezza è assolutamente avvilente con questa pioggia che entra dentro quindi in pratica nel film le emozioni danno voce ai pensieri determinate emozioni e si connettono a dei vissuti emotivi possiamo dire che determinati vissuti emotivi sono connessi ad una determinata lettura della realtà e questo può avere un impatto sul nostro comportamento e quindi definire un comportamento più magari rivolto alla risoluzione del problema oppure tendenzialmente più apatico e meno attivo ok ci prendiamo un momento e ascoltiamo una canzone eccoci rientrati qui a Mindset dall'ospedale Maria Luigia di Parma siamo in compagnia della dottoressa Cristina Magni psicologa e psicoterapeuta stavamo parlando di Inside Out il film ecco, qual è l'importanza dell'emozione nel film che è un personaggio che è tristezza? direi che tristezza ha un ruolo decisamente rilevante nel momento in cui tristezza riesce ad essere vista e ad essere sentita, ad essere riconosciuta succedono dei grandi cambiamenti all'interno di Rayleigh la sua presenza, la capacità di Rayleigh di sentirla permette alla bambina di aprirsi di raccontare il proprio disagio alla mamma, al papà e quindi di iniziare a condividere il proprio vissuto ad uscire da quello stato di apatia dentro la quale poi è entrata che è rappresentata bene anche dall'ingrigirsi della console che ad un certo punto non funziona più in concomitanza proprio della rigidità quindi possiamo dire che da un punto di vista proprio narrativo è un elemento di cambiamento, tristezza è un elemento decisivo di cambiamento e di evoluzione nell'affrontare il cambiamento significativo è anche il tema dell'empatia in questo film, giusto? Sì, proprio perché la capacità di sentire e di sentire anche l'emozione dell'altro è anche questo un elemento di cambiamento e di evoluzione in positivo nell'affrontare situazioni problematiche e difficili che tutti noi abbiamo la necessità di affrontare Ok, senti Cristina, ci diamo del tu, no? Noi nella vita, quindi ce lo diamo anche in radio Secondo te, qual è il significato più profondo e più autentico anche di questo film? Ricordiamo che questo film ha avuto un paio di anni fa quando è uscito un enorme riscontro di pubblico e anche un discreto riscontro da parte della critica che si è un po' divisa, c'era chi chiamava il capolavoro chi lo ridimensionava un po', ma comunque è innegabile che questo film abbia toccato profondamente soprattutto gli adolescenti, è stato molto visto nelle scuole proprio durante le ore di lezione quindi segno che anche i docenti hanno preso questo film come punto di riferimento e di riflessioni poi fatte successivamente nelle classi so che anche tu lavori con le scuole E io stessa l'ho utilizzato nella formazione con i docenti Ok, quindi sì, ti domandavo qual è il vero valore di questo film? Beh, ci porta a riflettere sull'importanza di entrare in contatto con le nostre esperienze interne anche quelle più dolorose e difficili proprio perché grazie alla capacità di sentire possiamo da lì ripartire per riadattarci alle situazioni nel momento in cui non riusciamo ad entrare in contatto con le nostre esperienze interne in particolare con le emozioni ci troviamo in uno stato di appunto, dicevamo prima, apatia e di distacco che ci mobilizza Infatti nel film c'è tutta una serie di scene in cui Riley è apatica appunto non connette più Non connette più a livello emotivo e soprattutto continua a stare dentro ad un processo interno della mente tipico che è ben rappresentato qua e che anche la scienza ci descrive molto bene nella psicologia del comportamentista che è quella del muoversi all'interno dei pensieri continuando a tornare al passato a quanto nel passato ci fosse una bella vita e quanto invece il presente non potesse dare alcuna opportunità Essere quindi dentro a questo treno di pensieri legati al passato non permettere di riconnettersi con quello che è la possibilità del momento presente Quindi tornare al momento presente partendo dall'entrare dalla capacità di stare in contatto anche col vissuto doloroso è in realtà il passaggio per uscire e per evolversi e crescere riadattandosi al meglio alle circostanze della vita quotidiana Bellissimo, bellissime le tue parole e tra l'altro sarebbe bello avere anche qualche riscontro da parte dei nostri ascoltatori di K-Rock Intanto vorrei ricordare visto che siamo quasi in chiusura la nostra casella di posta elettronica dedicata a questo programma che è Radio Chioccio laospedalemarieluigia.it qui da Monticelli Termi provincia di Parma da cui trasmettiamo e invito i nostri ascoltatori a darci le loro opinioni le loro suggestioni anche a partire da anche a partire da un film che per quanto appunto sia un film d'animazione è un film che è stato visto da tantissime persone adulti e anche appunto ragazzini, adolescenti giovani in generale Cristina io ti ringrazio molto di essere stata nostra ospite Grazie a te Alberto e speriamo di rivederci presto Volentieri Buona giornata a tutti Arrivederci